Io sono cambiato perché sono passati vent'anni, chi non cambierebbe in vent'anni, ci mancherebbe. Diciamo che, però ci tengo sempre a precisare, ma per l'amore della verità non per altro, che un attore che interpreta un personaggio, ci sanno tanti che dicono, ho interpretato San Giovanni e ho visto la Madonna, perché mi sono emmenesimato. Io non ho mai creduto tanto bene a quello, non so che cosa significhi, però è vero che affrontare un personaggio, sia esso esistente, sia esso di fantasia, sia esso letterario, in qualche modo significa per un attore, per una persona, immergersi in un universo che è fatto di pensieri, che è fatto di battute, che è fatto di riflessioni tue, che è fatto di persone che incontri, che è fatto del territorio in cui giri. E quindi questo non può lasciarti niente addosso, perché è come quando incontri una persona, tu incontri una persona e in qualche modo ti imbevi della sua energia e qualcosa ti cambia dentro. Poi ci stanno delle persone che ti cambiano di più e delle persone che ti cambiano di meno. Sicuramente sarei un uomo diverso se non avessi avuto questa avventura ventennale, con queste splendide persone che non solo sono qui al tavolo, ma sono in giro per la sala, con cui ho fatto questa cavalcata meravigliosa, come dicevo prima, che devo dire ricomincerei a fare non da domani, ma da oggi.